Salve da Marco Calabro per Conto di Torbidio, ci troviamo oggi a Cartagena in Colombia e quello che stiamo vedendo è l'hotel Villa Coloniale. Siamo nella zona di Gezzemani, la comparazione qualità-prezzo è sicuramente una comparazione interessante e siamo nella terrazza dell'albergo che noi vediamo là in fondo per esempio si vede la cupola della cattedrale. Stiamo dicendo quindi che Gezzemani siamo proprio a fianco del centro della città ed è una zona che dal punto di vista turistico ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni. L'hotel è interessante per la comparazione qualità-prezzo. Grazie per ascoltare i video del Torbidio e arrivederci al prossimo.